Cortese, cortese, cortese mente mia, sa dire l'ora, è da tanto che attendo qui, da sola, penso proprio che non ritornerà. Era andato a cercare, navigando per mari, transitando per siti, digitando per gruppi di discussione la sua identità, la sua identità. Ma come, non sai, c'è un vasto assortimento di opzioni. All'origine il sesso è femminile, una Y poi pigramente va. Trans pre-op, trans post-op, op, op. Transgender cross-dresser, translesbismo androgino oscillante. Ricerca la tua identità, prima di ritrovarti nei guai. Circe, l'identità. Circe, l'identità. Circe, l'identità. Oh, 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 oh. Lo vedo tornare, hai in mano qualche cosa da mostrare, una bambola scesa in fondo al mare, è un bambino che gioca e non con l'anna, ma quale mezza femmina o tutta donna o niente, ripete quel bambino tra la gente. Non hai trovato niente, ma non è così che tornerà la tua identità. Non è per caso che sta qua la tua identità. 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 Do 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 with enti